Fende palla, avvalga sua, Bola Agnosa, qualora ci fosse un'irregolarità di questo tipo, tutte, l'esultanza di capitana Rui, ancora Samaras, un'irregolarità di questo tipo. Mana, fare due Coca-Cola. E' la parte sbora su. 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 Buongiorno. È una buona. Sì. Adesso metti 10 peccati. Che vuoi fare? Sì. 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 satisfy h Sì. 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 Sono ancora viva, Djekas si gira, Navas e tapì la gola! E' la prima go! 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 E' la prima gola! Che è una prima gola? O Djekas o non Djekas? Djekas è la prima gola! E' la prima gola! E' la prima gola! E' la prima gola! Delicatissimo perché siamo al quarto rigore per la Grecia! E' Navas parla! Oh stile! E' la prima gola! E' la prima gola! Calca la! E' la média! E' la resti la? E' la più senti la? E' la? E' la? E' la prima gola! E' la prima gola! E' la prima gola! E' la prima gola! Poi, se piensa lo video, scrive su w 찾ale! Like su video! E' la prima gola! Grazie a tutti.